ciao amici benvenuti a questa diretta sono in compagnia di erica e scusate il ritardo problemi tecnici ma siamo qui siamo live e qualcuno si addormenta sono pronti siamo pronti ci siamo scusate i dieci minuti accademici ma siamo qui eric stava già dormendo ma siamo arrivati siamo arrivati saluto le 43 persone presenti e intanto spiego il come dire quello che il tema della diretta che è parlarvi della storia di italo che è il nostro corso a 2 di 1 analizzare il primo capitolo leggere analizzare il primo capitolo insieme e poi parlarvi dell'offerta del black friday che durerà fino a mercoledì prossimo e vi permette di acquistare la storia di italo a un prezzo speciale condizioni speciali ma ne parliamo dopo intanto saluto saluto giuliana 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 saluto late and saluto carlos saluto il mitico valentino teste sempre presente non so se sai chi è affissionato della liga romanica sempre presente e bojan insomma un po di nomi che che conosco e riconosco quindi grazie di essere qui un grande saluto grazie a diego quindi se cosa dici iniziamo subito sì bisogno di parlare un po ancora della storia pensi che magari possiamo dire due parole sulla storia per chi non sa nulla quindi magari posso anche mettere lo schermo così vedete così vedete la pagina del corso direttamente comunque dai presenta tu la storia di italo interessante quindi per chi non sapesse la storia di italo è appunto come ha detto prima davide il nostro corso di livello a2 b1 quindi per passare diciamo da livello principiante a un livello già intermedio abbastanza buono gli ultimi capitoli in realtà sono anche abbastanza insomma impegnativi quindi bisogna avere un buon livello per per riuscire a leggerli ma con la storia che diventa sempre più difficile man mano che si va avanti nei capitoli è semplice nel senso che voi arriverete a capire tutto tranquillamente la storia è praticamente nata dall'idea di voler creare un contenuto per principianti che fosse interessante appassionante non le solite cose tipo storielle un po sceme o non lo so magari le classiche cose dei libri di grammatica con i dialoghi e questo questo genere di cose sì molto spesso se posso aggiungere una cosa molti materiali tradizionali sembra che sembra che in questi materiali i contenuti sia il pretesto per insegnare grammatica per insegnare lessico ma non è mai il centro dell'attenzione mentre noi abbiamo ribaltato questa logica quindi il contenuto è al centro poi abbiamo trovato modi maniere di spiegare la grammatica insegnare lessico ma la storia è realmente al centro di tutto sì infatti diciamo la storia potrebbe essere interessante anche per chi ha già un buon livello in realtà e magari vuole spiegazioni grammaticali nel corso all'interno dei pdf diciamo insieme alla storia ci sono anche tutte le note lessicali quindi se ci sono delle parole che possono risultare difficili trovate subito una spiegazione a fianco cosa che rende facile la lettura perché quando si cerca di leggere qualcosa in una lingua che non si conosce può diventare frustrante può diventare difficoltoso quando non si conoscono delle parole e ogni magari qualche riga bisogna fermarsi per cercare magari su un dizionario su internet che cosa che cosa vogliono dire le parole che non si conoscono quindi diciamo anche questa questa difficoltà è molto aiutata per come è strutturato il corso sì anzi posso farvi vedere il corso quindi avete questo è un episodio l'episodio che tra poco analizziamo insieme quindi avete innanzitutto l'audio principale alla musica gli effetti sonori quindi è un'esperienza immersiva potete realmente entrare nel mondo della storia come se foste nel nel mondo nell'ambiente dei dei personaggi poi c'è una traccia senza musica senza effetti sonori quindi può essere una distrazione per qualche persona quindi noi diamo questa possibilità di ascoltare la traccia pura solo con le voci con gli attori che siamo noi due e irene la preziosa elissa dell'aura ospiti eccezionali poi il pdf che vi spiegava eric è questo qui ma oltre al pdf abbiamo anche la traduzione in inglese che è un bonus che noi offriamo quindi c'è questo bonus con la traduzione laterale e quindi è impossibile non capire qualcosa perché c'è tutto comprensibile in qualche modo dai direi di iniziare poi parliamo magari meglio sì vogliamo giusto dire parole sulla storia qual è la trama sì quindi di cosa di cosa parla la storia quindi abbiamo questo personaggio che è italo che è un ragazzo di 21 anni di boston negli stati uniti siamo nel 1962 e il giorno del suo ventunesimo compleanno diventa maggiorenne una delle prime parole che incontriamo italo riceve una notizia inaspettata da sua madre ovvero che italo in realtà è nato in italia i genitori americani in realtà lo hanno adottato e quindi italo è nato in italia 21 anni prima a torino perché c'è un elemento di biografico noi siamo di torino e quindi è nato durante la guerra la seconda guerra mondiale e in qualche modo poi è finito negli stati uniti e la sua vita è cambiata completamente quindi questa è la premessa e per fare un piccolo spoiler che non è un vero spoiler perché c'è scritto qua nella pagina italo quindi andrà in italia ovviamente va in italia sulle tracce del suo passato cerca cercherà i genitori biologici italiani non sa se sono vivi non sa nulla e quindi queste succedono tante cose davvero coinvolgenti interessanti e tanti misteri praticamente italo in italia farà una vera e propria indagine perché lui non ha non sa appunto se i suoi genitori sono ancora vivi se sono ancora in italia se sono a torino sa solo due nomi e ha qualche piccolo indizio ma da quello decide di cominciare le sue ricerche esatto esattamente quindi diventa quasi investigativo esatto valentino valentine 21 anni come te quindi potresti essere tu detto ciò iniziamo dai ma non perdiamo altro tempo quindi ora lo leggiamo ovviamente c'è nel corso c'è l'audio è tutto registrato bene ecco recitazione quindi è professionale però ora lo leggiamo insieme dai magari inizio io mi chiamo italo ieri sono diventato maggiorenne e stanotte non ho dormito maggiore analizziamo anche un po la grammatica direi il lessico maggiorenne come vediamo di qua una persona che ha compiuto la maggiore età legale in italia diciotto anni in america negli stati uniti ventun anni quindi maggiorenne sono diventato attenzione in italia ci sono dei verbi che hanno essere come ausiliare quindi non ho diventato sono diventato quindi diventare e qui questa è la nota forse non vedete bene ecco così vedete probabilmente meglio spero anzi tra l'altro no dovevo usare questa cosa così si vede meglio quindi sono diventato ecco non si vede niente così sono diventato sono come i professori boomer che non sanno usare lavagne elettroniche ok era troppo ambizioso usare una cosa che non ho mai usato per una diretta un po forse così no aspetta perché così perché così scuro ah così tipo quindi ok sono diventato ecco così una roba del genere sono diventato maggiorenne non ho diventato e stanotte non ho dormito sono le otto del mattino fuori è già giorno ok quindi non c'è molto da dire fuori è già giorno fuori c'è il sole è già giorno non vi sentiamo dice in teoria l'audio funziona cos'è ho avuto un quasi un infarto quindi al problema ok bene falso allarme bene fuori è già giorno in cucina mia mamma prepara la nostra solita colazione mentre ascolta il suo programma preferito alla radio bene questa è una lezione sugli aggettivi possessivi quindi abbiamo mia nostra solita colazione suo programma questo dovrebbe essere blu ma c'è un problema nel pdf comunque sarà sistemato prontamente bene nel file audio sentite anche gli effetti sonori l'audio la programma radiofonico quindi è tutto molto bello ok non c'è molto da dire andiamo avanti vuoi andare avanti tu chiudo forte gli occhi ma sono sveglio è inutile scendo dal letto vado in bagno e guardo il mio viso nello specchio mentre mi lavo la faccia ripenso alle parole di mia mamma ieri sera dopo la festa ok quindi qua che cosa possiamo dire se posso commentare io due cose secondo me la prima è che in diciamo poco spazio avete già visto ripetuto l'argomento grammaticale principale del di questa unità già tante volte guardate quanti aggettivi no sono evidenziati in blu guardate quanti ce ne sono quindi qual è l'idea di ripetere tante volte le strutture o le parole insomma le cose da imparare per ogni unità che non solo si ripetono tante volte nella stessa nello stesso capitolo ma si ripetono tante volte anche andando avanti nei capitoli quindi queste cose tornano in ogni capitolo ritornano le cose viste prima sì alcune parole nel corso del corso all'interno del corso tornano si ripetono quattro cinque sei volte quindi c'è una ripetizione delle parole e poi l'altra cosa avevo detto che erano due l'altra cosa è che vedete come in modo diciamo abbastanza naturale integrato nella storia abbiamo messo delle cose che magari si trovano normalmente nei libri di testo quindi tipo le azioni del mattino mi sveglio faccio colazione mi lavo i denti mi lavo la faccia mi lavo la faccia no quindi diciamo cose che è più facile imparare dentro una storia piuttosto che nelle solite liste che magari si trovano nei libri esatto 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 l'idea è che uno ascolta la storia ascolta ogni capitolo tante volte e memorizza insomma in maniera abbastanza naturale la maggior parte del lessico ma anche questi strumenti come glossari eccetera bene un'altra cosa interessante questo ri non è spiegato ecco spiegato qui tra l'altro anche questo deve essere blu questi colori hanno qualche problema li sistemo tranquilli ripenso vuol dire penso di nuovo abbiamo questo prefisso in italiano ripenso ridico rifaccio ritorno anche quindi ripenso alle parole di mia mamma l'altra cosa che da dire mia mamma in italiano mia mamma non ha un articolo quando parliamo dei parenti non abbiamo un articolo mia mamma tuo papà suo cugino nostro nonno eccetera a parte loro che se grammatica la forma grammaticalmente più standard è con il il loro papà anche se molti dicono loro papà comunque quindi mia mamma ma il mio viso quindi se parlate spagnolo questo il è strano il mio viso perché perché in spagnolo si dice mi 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 cara no non si dice la mi anche in inglese anche anche in inglese quindi una cosa particolare dell'italiano bene quindi italo si guarda si guarda allo specchio che cosa può aver detto sua madre il giorno prima vuoi leggere tu italo devo dirti una cosa importante anche se tu anche se tuo papà non è qui ho aspettato tanti anni ma oggi sei diventato maggiorenne è il giorno giusto ho sorriso con un po di paura dimmi italo tu sei nostro figlio ma io ed eri non siamo i tuoi veri genitori se vuoi posso fare italo e tu fai il personaggio che nella storia non è un tuo personaggio di irene che salutiamo se ci guarda quindi si e italo risponde ok ok è uno scherzo ho riso ok vediamo qui quindi devo dirti una cosa importante anche se tuo papà non è qui tuo papà non il tuo papà tuo papà ho aspettato tanti anni ma oggi sei diventato vediamo di nuovo sei diventato ma ho aspettato ho aspettato ma sei diventato maggiorenne è il giorno giusto ok se avete domande non capite qualcosa scrivete in chat ok quindi cerchiamo di fare qualcosa di interattivo anzi magari possiamo farvi anche possiamo fare qualche domanda al pubblico così non è un monologo soliloquio nostro quindi anzi potevamo chiedere cosa pensavano fosse la rivelazione troppo tardi ormai si sa l'abbiamo detto abbiamo detto ai 4 20 abbiamo detto quindi ho sorriso con un po di paura qua c'è anche una cosa che menzioniamo nella grammatica molto importante tanti verbi italiani della seconda coniugazione quindi verbi in ere sorridere scendere prendere leggere tanti altri sono irregolari al participio passato quindi non non è sorriduto non è legguto non sono queste forme che regolari ma sono irregolari quindi sorriso letto preso sceso e mille altre quindi è una difficoltà dell'italiano e ne parliamo in questo capitolo 1 un saluto a nemmiche emozionata di vederci grazie spero ti piaccia l'analisi quindi non siamo i tuoi veri genitori a vediamo anche qui una cosa tra l'altro che 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 al plurale torna i quindi tuo papà tua mamma i tuoi genitori ok anche con i familiari abbiamo abbiamo l'articolo bene ok è uno scherzo ho riso uno scherzo una cosa non seria joke una broma eccetera bene andiamo avanti no italo è una lunga storia ma non è uno scherzo ok mi lavo i denti mi petti nei capelli e cerco di ricordare la nostra conversazione è come ricordare un sogno ma non ho sognato la faccia di mia mamma era così seria sono diventato serio anche io ho chiesto più dettagli vediamo questo fermarti ok ok qua abbiamo alcuni verbi riflessivi o intransitivi pronominali non è l'argomento di questa lezione è un argomento successivo nel corso quindi mi lavo i denti mi pettino i capelli abbiamo anche delle immagini a volte più facile spiegare con un'immagine che a parole cerco di ricordare la nostra conversazione quale può essere un sinonimo di cerco di ricordare scrivete nei commenti cerco di ricordare vediamo se sapete ci sono c'è principalmente un altro modo di dire cerco di usate la preposizione giusta però è come ricordare un sogno ma non ho sognato niente di particolare possiamo dire forse la differenza tra sogno e sonno che in spagnolo non è così in italiano un sogno è dream in inglese quindi quando dormiamo è viviamo esperienze subconscie quello un sogno sonno invece è l'atto di dormire o la voglia di dormire anche avere sonno sonno e sogno due cose diverse ecco catherine tu sei troppo brava però però va bene provo a esatto provo a ricordare cerco di ricordare principalmente diciamo sono due modi bene come ricordare un sogno ma non ho sognato la faccia di mia mamma anche qui non è della mia mamma di mia mamma era così seria sono diventato serio anche io sono diventato ok ho chiesto più dettagli che come dire ho chiesto altri dettagli più dettagli bene ok sei nato 21 anni fa in italia per questo ti chiami italo sono sorpreso italo non è un nome americano certo ma non ho mai pensato molto a questa cosa vivo in america da sempre parlo inglese non sono mai stato in italia ok sei nato questo è un altro verbo uno irregolare perché nascere non è nasciuto ma è nato sono nato lo sapete probabilmente è un verbo comune e poi all'ausiliare essere quindi sono nato parlate spagnolo parlate portoghese attenzione perché sono nato sono nato in italia sei nato in italia sono sorpreso non è un nome americano a 21 anni fa non so se hai commentato questa cosa per dire quanti anni indietro nel passato è successa una cosa si dice x anni fa esatto 21 anni fa questo è un errore molto comune quindi in italiano 21 anni fa da numero e fa dopo sempre dopo tre anni fa cinque minuti fa dieci anni fa 21 anni fa per questo ti chiami italo sono sorpreso italo non è un nome americano certo ah guarda chiedono la faccia uguale il viso credo sì esatto cioè no il abbiamo il viso abbiamo tre parole il viso il volto e la faccia la faccia è la più comune la più normale il viso il volto sono un po più eleganti come come parole direi forse in ordine il volto è la più elegante faccia viso e volto volto è quasi poetica no viso si usa molto nella cosmesi no anzi si usa viso non si dice la crema per la faccia crema per il viso perché faccia sembra un po basso forse però è però è la parola più comune se dico mi fa male la faccia mi lavo la fa mi lavo la faccia non mi lavo il non so hai un qualcosa in faccia però qua guardo il mio viso nello specchio un pochino più elegante grazie per per la domanda ok bene bene quindi dove dove eravamo non è un nome americano ma non ho mai pensato molto a questa cosa vivo in america una sonrisa con un poco di miedo forse fatto che sorride italo sorride quando dice ho riso è uno scherzo riso sì forse questo ok vivi in america da sempre da sempre vuol dire tutta la vita è tutta la vita che vivo qui vivo qui da sempre bene non si potrebbe dire anche da cinque anni da tre anni eccetera esatto esatto possiamo dire ho sempre vissuto con il passato prossimo sempre vissuto in america o vivo in america da sempre da tutta la vita da 21 anni non sono mai stato in italia ok bene continuo a leggere tuolo ok mia madre ha continuato i tuoi veri genitori erano molto poveri viveva vivevano al nord a torino tuo papà lavorava come operaio alla fiat erano gli anni della guerra ah scusa dormendo anch'io avevo sonno la seconda guerra mondiale esatto i tuoi genitori ti amavano molto ma era pericoloso restare in italia così che hanno mandato qui in america ok vediamo questo grazie duvec che ha imparato molto con i miei video un saluto bene i tuoi genitori erano poveri qua abbiamo l'imperfetto spieghiamo l'imperfetto l'uso dell'imperfetto in un capitolo successivo vivevano al nord a torino tuo papà quindi vediamo sempre tuo papà i tuoi genitori vediamo questa struttura lavorava come operaio alla fiat erano gli anni della guerra un operaio una persona che lavora in fabbrica c'è questa parola vedremo questo elemento è un elemento importante nella storia quindi la la fiat la fiat è una lo sarà spiegato meglio è una famosa lo sapete forse la fiat è abbastanza famosa è una un'azienda di automobili molto importante in quegli anni negli anni sessanta in italia era per torino soprattutto sì 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 questo è un elemento della storia ma senza fare spoiler quindi interessante forse lavorava come operaio oppure si può dire faceva l'operaio sì a proposito vediamo se riesco la tecnologia mi permette è un po piccolo aspettate ingrandisco un po il carattere qui un carattere gigante così si legge faceva l'operaio ho spostato la camera ovviamente pessima idea lasciava l'operaio lavorava come operaio anche ero era operaio quindi abbiamo possibilità diverse voi che lavoro fate scrivetemi nei commenti che lavoro fate usate una di queste strutture angela dice la mia la mia la mia prima volta con voi grande saluto angela spero non sia l'ultima sia una di tante esatto fabbrica d'ecoccia si fabbrica di auto in italiano diciamo auto automobili auto bene bene quindi quindi era pericoloso restare in italia ok quindi pericoloso a volte mettiamo questa freccia che indica il contrario di c'è scritto anche qui il contrario di qualcosa pericoloso il contrario di sicuro era pericoloso restare in italia così ti hanno mandato in america grande rivelazione bene faccio la psicologa dice come si pronuncia giu giu non voglio pronunciare male il tuo nome quindi fammi sapere lavoro in un museo come guida senza senza l'articolo come guida direi si vedi papà lavorava come operaio non come un certo certo immagino tu parli russo no o comunque una lingua slava e questo un problema un problema quello degli articoli faccio l'insegnante bene vince ah come bonjour ok giuliana perfetto faccio il medico spero che italo non tipi per la juve non so probabilmente non segue il calcio italo chi lo sa sono giuliano sono coreano abito in italia per studiare canto lirico wow bellissimo studiare canto senza di canto giusto si studiare canto lirico beh in bocca al lupo in bocca al lupo ok andiamo avanti come perché loro non sono venuti con me hanno usato tutti i loro soldi per pagare il viaggio hanno deciso di mandarti a vivere a boston da una loro cara amica anna lei era la nostra vicina di casa harry era in italia per lavoro nel maggio 1941 così al ritorno ti ha portato con lui hai viaggiato con dei documenti falsi sei arrivato a boston a giugno ok quindi quindi beh se avete domande fateci si è un po complicata questa parte di come italo è arrivato in italia sì beh vediamola insieme quindi hanno usato tutti i loro soldi per pagare il tuo viaggio hanno deciso di mandarti a vivere a boston da una loro cara amica vediamo la struttura di da che interessante da si usa con le persone se qualcuno parla francese un po come sce in francese o se qualcuno parla lingue slave in russo è u non so altre lingue slave come funziona andare da qualcuno essere da qualcuno quindi sono se io dico sono da luca significa sono a casa di luca sono da luca ok sono da luca oppure sono dal medico qui medico significa medico significa quello che significa dottore però sono dal medico vuol dire sono nello studio del del medico quindi usiamo la preposizione da molto particolare in italiano perché non c'è in altre lingue quindi sono dal medico sono da qualcuno e quindi si può essere quindi uno stato sono qui oppure vado da anche come moto a luogo come direzione quindi ti hanno mandato da una persona in polacco come in russo esatto per me italo italo calvino e basta o italo treno vabbè non siamo sponsorizzati né dai treni né da calvino ciao da boston dalla città di italo dalla città di italo quindi quindi si vedi se trovi italo da qualche parte cod in serbo croato bene bene impariamo altre lingue anche ok andiamo avanti quindi dicevamo hanno mandato italo da un'amica da un'amica dei genitori di italo genitori italiani di italo avevano un'amica anna e hanno mandato italo da questa amica che era negli stati uniti e quindi eri che era il papà di italo questo l'abbiamo menzionato l'avevamo no diceva io ed eri non siamo i tuoi genitori ok ok no mi stavo preoccupando no quindi eri che il papà adottivo americano diciamo di italo era in italia e quindi eri ha portato italo da anna l'amica dei genitori italiani e questa anna conosceva eri perché era la loro vicina di casa esatto esatto quindi i genitori americani di italo vivano vicino anna che era amica dei genitori italiani di italo questo è il passaggio come italo è arrivato a boston nel giugno 1941 è una storia finta sembra vera se la racconto così ok quindi vediamo anche qui grammaticalmente sei arrivato e non hai come abbiamo vediamo qui sono venuti quindi con i verbi di movimento usiamo essere sono andato sei venuto siamo tornati siete arrivati eccetera un po come sono diventato sono nato che abbiamo visto bene proseguiamo siamo neri non so se eravamo neri da cinque minuti bene no non lo so spero di no bene dai vai vai tu che c'è la tua parte e poi che è successo sono riuscito a dire alla fine no non hai parlato per un minuto ah no non ho parlato per un minuto quindi adesso non parlo per un minuto no ve lo risparmio quella non poteva essere davvero la mia storia e poi che è successo sono riuscito a dire alla fine Anna è morta tre mesi dopo in un incidente non ti ricordi eri molto piccolo e come sono diventato vostro figlio Harry voleva adottarti si è innamorato di te nel viaggio dall'Italia all'America eri un bambino molto dolce sei diventato nostro figlio il giorno del tuo terzo compleanno e hai preso il nostro cognome ok che è successo anche qui è successo uno di questi verbi e sono riuscito sono riuscito è successo subito dopo Anna è morta quindi vediamo tutta questa serie di verbi con essere che abbiamo scelto apposta Anna è morta tre mesi dopo come si conosce la differenza tra essere e stare quando sono usati nel passato prossimo? ah intendi sono stato e sono stato non c'è modo realmente sono stato a casa e sono stato male per esempio no? non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è modo è il contesto il contesto ci fa capire no? se dico sono stato male non posso dire sono male ma sto male no? quindi è il verbo stare sono stato male vabbè anche perché scusami sono stato cioè può essere passivo se è il verbo essere no quello non è passivo quello è partecipio passato è passato prossimo sono stato sono stato in vacanza eh ma è il verbo stare però per essere cioè qual è la differenza? no nessuna quindi nella non c'è nessuna differenza formale essere sono stato questo è il passato prossimo stare sono stato ah questo intendi ok ok non l'ho capito quindi non c'è non c'è differenza non c'è alcuna differenza questo perché non diciamo non c'è essuto sono essuto ovviamente forse esisteva vabbè non importa comunque sono stato questo è interessante anche perché in spagnolo è sido c'è un c'è un participio specifico è sido in italiano invece usiamo stare quindi quindi non c'è differenza però se diciamo sono stato ehm a casa in italiano almeno standard è essere a casa sono a casa oppure sono stato mh in vacanza no? diciamo essere in vacanza eh sono stato ehm in Germania no? sono in Germania sono stato in Germania stare invece si usa in altri casi quindi non c'è differenza formale comunque alla fine non serve sapere sapere quale verbo stiamo usando realmente cioè serve saperlo al presente sto male sono in Germania eccetera quindi si dice mandare da qualcuno nel senso sending somebody at someone's home esattamente mandare da qualcuno mandare da qualcuno andare da qualcuno tornare da qualcuno essere da qualcuno sono da Giovanni torno da Luca cioè è una direzione è vero anche che da è anche un movimento da un allontano un allontanamento da un luogo quindi può essere ambiguo se dico torno da Luca vuol dire torno a casa di Luca quindi vado di nuovo torno da Luca oppure torno da Luca nel senso sto tornando da casa sua esatto verso casa mia esatto sì quindi può essere ambiguo però tipicamente da cioè il contesto aiuta sempre no? nelle lingue quindi il contesto ci aiuta certo in spagnolo ser aver sido estar avere stato esattamente ok andiamo avanti ok questo no? l'abbiamo già letto abbiamo letto ah non abbiamo analizzato quindi sei innamorato di te nel viaggio dall'Italia alla me quindi qua dall'Italia ovviamente è è from no? de dall'Italia all'America eri un bambino molto dolce sei diventato nostro figlio anche qui nostro vostro figlio senza l'articolo il giorno del tuo terzo compleanno e hai preso il nostro cognome ok Mayers io leggo Mayers qualcuno mi ha detto è vero sarebbe Mayers Mayers però io leggo Mayers perché ormai sono sono abituato ho sempre letto Mayers ormai Mayers per me nel mio cuore così però immagino potete scrivere nei commenti se Mayers ma sì ok esatto esatto Catherine ti ho letto ti ho letto nel pensiero io leggo leggo le persone nel pensiero ok continui tu leggo io qua è tutto spontaneo e qua parli tu ok così sono venuto in America perché in Italia c'era la guerra sono stato adottato sembra un romanzo ho pensato in quel momento qui abbiamo una costruzione passiva che vediamo poi nel capitolo undici però sono stato adottato mi hanno adottato sarebbe l'equivalente mi hanno adottato sembra un romanzo romanzo è in italiano a novel in inglese un romanzo è un libro di finzione quindi non significa romance non significa altre cose ci sono falsi amici una novella in italiano è una storia breve se vogliamo questa potrebbe essere una novella forse una novella a capitoli comunque bene e i miei veri genitori dove sono? che cosa fanno? sono vivi? non sappiamo con la guerra era difficile restare in contatto ok va bene niente di particolare direi mi vesto esco dal bagno ed entro in cucina mamma ha preparato uova e pane tostato ma io non voglio fare colazione voglio fare altre domande a mia madre ho pensato tutta la notte alla mia storia bene ok qua abbiamo uova che è il plurale di uovo plurale irregolare un uovo due uova o tante uova e per il resto altro lessico della mattina direi come un bravo ragazzo americano mangia uova e pane tostato fosse se fossi italiano mangerebbe un cornetto cose dolci e bene niente di particolare mamma perché non mi avete mai detto la verità Harry non ha mai voluto ma ora sei diventato maggiorenne lui è in Vietnam e insomma dovevi sapere Italo è la tua vita il tuo passato forse i miei forse i miei veri genitori sono ancora vivi magari sono ancora in Italia da qualche parte sì è possibile non sai altro su di loro i loro nomi hai una loro fotografia qualsiasi cosa so solo che si chiamavano dunque Paola e Carlo credo sì Paola e Carlo e i cognomi con i cognomi forse non lo so Italo sono passati tanti anni ok quindi bene Italo non è contento che non gli abbiano detto la verità per 21 anni non sapeva non sapeva la verità sul suo passato è la tua vita il tuo passato quindi qua abbiamo aggettivi possessivi forse i miei genitori sono ancora vivi magari sono in Italia qui vediamo anche un uso di forse seguito da magari no è un argomento tipico la differenza tra forse e magari magari è un po' più positivo quindi se dico magari sono ancora in Italia è quasi una speranza c'è un una sfumatura un elemento di speranza magari sono ancora in Italia forse è più una probabilità è probabile forse c'è una certa una probabilità non alta non bassa 50% potrebbe essere forse magari è più positivo più ottimista da qualche parte vediamo anche in questa costruzione l'uso di da da qualche parte che indica non è una provenienza ma è un uno stato un un luogo una posizione da qualche parte bene ok non sai altro su di loro tra l'altro questo non è non è spiegato ma è anche è interessante che quando quando usiamo su quando usiamo la preposizione su con un pronome personale quindi me te lui no noi voi loro aggiungiamo di su di me su di te su di noi che è una famosa canzone su di voi su di loro mentre sul tavolo non è su del tavolo o sul libro non quindi con le persone aggiungiamo di su di su di te su di me non sai altro su di loro i loro nomi ha una loro fotografia qualsiasi cosa so solo che si chiamavano Paolo e Carlo e i cognomi quindi vediamo abbiamo già visto la parola cognome credo nome cognome non lo so Italo sono passati tanti anni sono passati verbo di movimento qua non è un movimento letterale è un movimento figurato del tempo però sono passati è passato posso contare su di te esattamente posso contare su di te eccetera maggiorenne 18enne cosa vuol dire come perché si usano così maggiorenne è una persona che ha la maggiore età quindi in Italia 18 anni negli Stati Uniti dove vive Italo 21 anni nel vostro paese tipicamente 18 anni potete scrivere nei commenti 18enne è l'età si scrive si può scrivere così o si scrive anche si scrive anche così la forma estesa Italo è 21enne a proposito quindi l'aggettivo che usiamo per l'età 21enne 18enne quindi con il suffisso n più il nome davanti si può si può formare la parola che indica l'età si trentenne quarantenne cinquantenne molto regolare e tra l'altro il contrario di maggiorenne quindi tutti quelli che non hanno raggiunto i 18 i 21 anni ce lo dite voi nei commenti ce lo dite voi nei commenti ma è è facile è proprio il contrario no è abbastanza Brasile 18 anni ma io ridaggio sì si può dire anche maggiore età anche in italiano un saluto al Brasile paese che prima o poi visiterò quindi abbasso la testa triste ho troppi pensieri troppe paure in poche ore sono diventato adulto ho scoperto che sono italiano sono stato adottato per anni mio padre mi ha nascosto la verità non voglio arrabbiarmi con lui ora è lontano e rischia la vita ma sono triste e confuso sono diventato adulto solo da un giorno ed è già stato il giorno più difficile della mia vita quindi ok abbiamo abbassare il contrario è alzare alzare abbassare abbassare la testa il titolo abbassa la testa triste in poche ore sono diventato adulto abbiamo visto vedete quanta ripetizione sono diventato sono diventato sono diventato quindi c'è molta ripetizione ho scoperto che sono italiano sono stato adottato per anni mio padre mi ha nascosto la verità e questo è un altro verbo irregolare in ere nascondere nascosto nascosto la verità non voglio arrabbiarmi con lui ma ora è lontano e rischia la vita ma sono triste e confuso quindi il suo papà abbiamo detto che era in Vietnam abbiamo pensato questa cosa perché era il 62 quindi perché no perché no sono diventato di nuovo sono diventato adulto solo da un giorno è già stato il giorno più difficile della mia vita quindi quindi qui finisce il capitolo 1 abbiamo poi una sezione di grammatica qui abbastanza concisa nel capitolo 1 poi un po' più lunga in altri capitoli abbiamo un esercizio sul passato prossimo abbiamo un esercizio sugli aggettivi possessivi un esercizio sul lessico a cui scegliamo alcune parole più utili diciamo così alcune domande tra l'altro potete anche scrivere proprio nel pdf si può si può completare se volete farlo e le soluzioni ovviamente e questo è un pdf e questo era il capitolo 1 della storia che storia però è vero? questo è solo l'inizio questo è solo l'inizio se ti sembra interessante è molto meglio in realtà la continuazione è molto più interessante però è una buona è una buona premessa grazie peter per il bel commento direi un giovane ragazzo forse che piccolo piccolo per noi è proprio diciamo fino ai un bambino quasi un bambino quindi sei un giovane ragazzo grazie per il bel commento davvero mi fa molto piacere leggerlo minorenne sì esatto marcello marcello ha indovinato e bene bene quindi magari possiamo far intanto voi se avete domande su sul corso lasciate le vostre domande state qui nella chat e parliamo ancora un po' poi possiamo chiudere la diretta però volevo provare a farvi sentire io non so se funziona l'audio questa è una grande è un grande mistero ma ditemi voi ditemi voi se si sente l'audio perché non lo so scrivetemi se si sente o se sto guardando lo schermo come uno stupido senza parlare sentite qualcosa l'audio funziona no ok allora allora molto male effettivamente non ho non ho provato questa cosa e non so come non so come fare vabbè non importa comunque 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 l'idea è che l'idea è che qua sentite l'audio tra l'altro questo primo episodio potete sentirlo in anteprima sul sul mio sito se andate su principiante interme scusate principiante sentite questi due avete gli ultimi due episodi e quindi è uguale solo non avete i materiali non avete il resto dei materiali e quindi tra l'altro una cosa che non so se conoscete ma può essere interessante ve la consiglio è un'estensione che si chiama Read Lang Read Lang che io ogni tanto uso è gratis con limitazioni e quindi funziona così vi faccio vedere magari zoom facendo un po' di zoom così forse si vede meglio potete scusate perché non funziona così ecco già questa traduzione è sbagliata però ecco se se scegliete evidenziate più parole funziona meglio di solito quindi potete evidenziare le parole o gruppi di parole frasi e fondamentalmente imparare in questo modo link funziona allo stesso modo più o meno link è anche molto molto buono quindi usate un po' quello che 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 più vi piace ci sono varie estensioni di questo tipo però a me piace molto Read Lang e quindi sì è un altro modo di interagire con il testo e qua c'è inglese potete mettere qualsiasi lingua potete mettere spagnolo per esempio non sta funzionando forse devo ah ecco adesso funziona quindi non so se vedete la jornalero jornalero vuol dire quello non lo so è una traduzione automatica quindi non funziona non funziona sempre alla perfezione però ecco là c'è un limite di parole come come vedete comunque molto utile quindi anche per questo motivo vi abbiamo messo il testo senza file senza glossari eccetera se volete lavorare in altri modi come con piattaforme come Read Lang Link oppure se volete usare quello che volete potete farlo e potete anche usare la traduzione in inglese quindi potete usare quest'altro file che come vi abbiamo fatto vedere ha tutta la traduzione a fronte il testo a fronte e quindi è anche questo molto utile allora diceva ok jornalero è quello che guadagna soldi per giorno di lavoro sì non è perfetto essendo una traduzione automatica però dopo dopo l'acquisto credo vuoi dire quanto tempo per finire le lezioni non c'è una scadenza il corso è tuo per sempre quindi è un corso in inglese dicono self-paced non so come si dice in italiano che puoi fare al tuo ritmo e ci sarà c'è una una comunità quindi ci sarà interazione con me con collaboratori miei e niente c'è questa comunità dove poter parlare del corso c'è questa storia intera sul podcast no perché è un prodotto è un prodotto che vendiamo quindi costa e e niente quindi ci sono i due capitoli iniziali quindi magari diciamo anche qualche informazione più tecnica quindi sono 14 capitoli come vedete qui e sono in totale più di sono più di 100 minuti di audio 100 minuti di audio però di grande qualità sembra davvero qualcuno l'ha chiamata una la paragonata è una radionovela io non non ho l'età per le radionovelle non so se qualcuno qui conosce le radionovelle però è una cosa simile un po' simile come come concetto e è davvero un mondo sonico e acustico non so come dire oltre che narrativo con questa storia davvero appassionante che si sviluppa piena di misteri tradimenti insomma colpi di scena cose inaspettate e questa è l'idea parliamo magari un po' dell'offerta se avete altre audio oppure audiolibro e si se vogliamo è più di un audiolibro perché è un appunto l'audiolibro ha solo una voce che legge il libro noi abbiamo quattro voci quattro voci diverse abbiamo la musica abbiamo gli effetti sonori quindi qualsiasi azione sentite l'effetto sonoro se ascoltate con le cuffie è molto immersivo è proprio un'esperienza stereo marcello dice l'ho ascoltata e so che fate una bella recitazione grazie grazie se qualcuno l'ha già ascoltata scrivete scrivete che vi è piaciuta mi raccomando parlate bene del del corso quindi fondamentalmente qua avete tutte le informazioni che cosa questi sono i nostri ospiti che hanno partecipato Elissa e Irene che cosa vi voglio dire i bonus quindi che avete sono la traduzione come abbiamo detto e la versione audio senza musica effetti sonori che trovate non vi faccio spoiler quindi torno ai primi capitoli se no ci sono magari spoiler eccetera e il corso costa normalmente costa 127 euro ma costa 97 per fino a mercoledì prossimo per questa offerta un po' è un blancho un po' black friday entrambe le cose e in più avete anche uno sconto sulle flashcards che costano 20 euro al posto di 30 le flashcards sono una cosa in più che vi mostro sono forse conoscete il concetto di flashcards sono dei biglietti di carta che usiamo per imparare il lessico tutto il lessico che abbiamo visto tutto tutte queste parole tutto questo vocabolario lo trovate in questo mazzo cioè deck in questi vari deck divisi per capitolo e quindi voi potete studiare tutto il lessico in questo modo quindi tutte le parole che abbiamo visto quindi dite ah ok una persona che ha 18 anni o più in America 21 e abbiamo anche il contesto perché secondo me il contesto è anche importante quindi non tutti lo fanno è una cosa in più che facciamo noi sono diventato com'è? minorenne no non è minorenne quindi diciamo voglio controllare era maggiorenne Erika hai sbagliato quindi diciamo che non la sai è in corso c'è il sole sono le 8 del mattino fuori te la ricordi questa la so fuori è già giorno fuori è già giorno verifichiamo bene bravissima passo della mattina contrario di pranzo o cena mia mamma prepara la nostra solita colazione sei sicura? accendiamo giusto colazione colazione bene questa è l'idea quindi queste sono le flashcards e l'idea è voi studiate quindi leggete il capitolo tante più di una volta io consiglio leggere una volta per capire cosa succede leggere una seconda volta magari con un focus con attenzione sulla grammatica e sugli argomenti di grammatica e magari una terza volta sul lessico può essere un modo interessante non c'è ognuno usa questi materiali come vuole però se avete poi le flashcards consiglio di studiare le flashcards e poi ripassarle con diciamo il metodo dell'active recall dei ripassi programmati dei ripassi programmati questo tra l'altro è un ripasso programmato sono parole che ho già visto però se vado così ho saltato il ripasso però queste sono parole che non ho visto e quindi mi dice i termini che conosco o che non conosco che sto imparando quelli che ho padroneggiato che ho imparato e quindi abbiamo tutta questa questa cosa qui e quindi l'idea è fare magari un imparare fare il mazzo oggi domani rivedere il mazzo rivedere i termini poi tra quattro giorni o tra sì quattro giorni sei giorni dieci giorni qualcosa del genere quindi in maniera incrementale tra l'altro credo anche di aver ho messo anche un dato qualche informazione quindi la famosa forgetting curve la curva dell'oblio credo si dica in italiano quindi l'idea è usare le flashcards in questo modo qui e qua ho dato un consiglio di come si possono usare quindi tanti materiali ho tante idee in realtà su come sviluppare questo corso perché pensavo che un'idea è anche fare dirette così o analisi come quella di oggi magari le creerò per il corso ma questa è un'idea solo vedremo perché ridi perché sto leggendo i commenti di Luca che non so se hai visto tra l'altro Luca voleva fare quest'analisi con lui e la faremo di nuovo quindi Luca se sei qui però era un'idea molto bella e quindi l'ho già realizzata Luca però la faremo anche insieme per il tuo canale in realtà l'ho avuta prima di lui quindi poi lui mi ha proposto un po' la stessa cosa che volevo fare che avevo già pensato di fare con te quindi grande Luca sei un grande personaggio Luca è davvero seguitelo è davvero il più grande poliglotta veneto che io conosca breve facciamo un altro episodio epico sì magari ci concentriamo anche su pronuncia e intonazione cose così che non abbiamo visto quest'oggi quindi Maria in un'altra epoca prima prima della tv si ascoltavano le novelle per radio sì esatto quindi questa è una cosa del genere però forse un po' più moderna diciamo con i soldi del corso voglio dire questo comprate il corso che paghiamo la produzione della della serie della storia di Italia esatto esatto quindi sì questo è il nostro piano è creare una serie tv esatto sarebbe bellissimo passiamo anche noi dalle radionovele al grande schermo Alex dice l'ho ascoltato anch'io complimenti siete bravissimi grazie ah Luca era da un po' non l'avevo visto eh infatti secondo me non l'avevi notato stavo aspettando che lo vedessi bene qua si inizia a parlare serbo Luca parlate tra di voi in serbo non capisco cosa succede studio serbo cosa stai dicendo Luca vabbè qua sta succedendo di tutto insomma quindi abbiamo detto tutto ma quindi se io non ho capito una cosa facciamo questa cosa non ho capito una cosa per comprare con il Black Friday non c'è un codice sconto si compra al prezzo già scontato no molto semplice voi andate qui acquistate strisciate la carta di credito a parte gli scherzi non funziona perché sono logato aspettate ve lo faccio vedere in un altro modo devo fare aspettate un secondo allora sono già qui devo uscire da qui bene quindi acquista il corso e qua se volete aggiungere le flashcard lo fate qui e questo è quanto molto semplice non ci sono il codice lo vedete qui ma non è già applicato è già applicato e tra l'altro avevamo un trailer bellissimo e credo che credo che un'idea interessante è concludere con il trailer cosa ne dici spero funzioni perché io sono grande fan di questo trailer che ho rotto le palle per fare sì insistendo tanto tu parlo continuo continuo non so bene cosa dire se non che il trailer secondo me è anche una figata ci sono si capisce un po' dove va in che direzione va la storia perché all'inizio sembra così una storiella tranquilla da un ragazzo ma poi succede di tutto e alcuni personaggi si rivelano diversi da quello che si può pensare all'inizio non voglio fare troppi spoiler però la storia è appassionante interessante bene quindi siete pronti siete pronti per il trailer più leggendario della storia 1962 Italo devo dirti una cosa importante io ed Harry non siamo i tuoi veri genitori erano gli anni della guerra la seconda guerra mondiale i tuoi genitori ti amavano molto ma era pericoloso restare in Italia così ti hanno mandato qui in America Paola e Carlo non aspetterò i miei genitori in America andrò in Italia e troverò io loro il volo che cambierà il mio futuro parte tra poche ore Torino chissà se sono stato qui a piccolo comincerò dalla Fiat mio padre ha lavorato qui ricordo tre uomini di nome Carlo uno ha lavorato qui fino a pochi anni fa Carlo Rastrello ma ora in pensione in pensione un altro Carlo Baldini si è licenziato negli anni 60 negozio di sartoria su misura e il terzo invece è partito per la guerra non l'ho mai più visto Carlo Barbero andato in guerra mio padre potrebbe essere morto potrei non conoscerlo mai ho un appuntamento con una ragazza bellissima Marta Barbero piacere Italo molto piacere che forse mia sorella sì pronto Carlo no non c'è in questo momento Carlo è è un mistero questa storia è veramente strana quindi Carlo ha tenuto per anni un segreto con sua moglie per me qualcuno menti è come cercare un ago in un pagliaio lo troveremo ve lo dico io ho trovato la via sulla cartina non perdiamo tempo credo di aver trovato qualcosa quello che vedono i miei occhi mi paralizza di un tratto tutto il mio mondo crolla addosso a me prenderei la decisione più saggia ne sono certo tu lo sapevi sapevi di questa merda non mi hai mai detto nulla basta smettetela c'è qualcuno fuori come potrei tornare in America e riprendere la mia vita dopo tutto questo quindi vai quanto è figo vedo che è piaciuto vedo che è piaciuto Luca Luca apprezza Luca apprezza Valentino è sorpreso nomination Alex dice nomination all'Oscar nella categoria miglior film straniero film non ancora ma presto ma presto ci stiamo lavorando ci lavoriamo 2026 film siamo pronti un giallo sì è quasi un giallo quasi un giallo soprattutto nella seconda parte nella seconda stagione sono due stagioni nella seconda parte è molto noir sì sì quasi beh non so se ma sì pompiamo un po' comunque c'è molto mistero e diventa molto quasi questa atmosfera diventa quasi thriller sì un po' thriller forse più che noir è più thriller diciamo così quindi sì Luca è un fanboy all'ennesima potenza Luca sta volando Luca sta volando beh Luca poi noi parliamo di come collaborare magari mi aiuti un po' con questa storia magari magari facciamo una seconda parte Luca fa il killer fa l'assassino o fa il maggior quindi che è poi la stessa cosa esatto perché il maggior dom è sempre l'assassino sì sì Luca Luca è già pronto Luca Luca è già già caldo secondo me Luca potrebbe fare un personaggio personaggio veneto insieme ad Eliseu fanno una coppia veneto bene insomma abbiamo già detto tutto credo sì non c'è altro da aggiungere se non che il corso è acquistabile a queste condizioni fino a mercoledì quindi noi vi ringraziamo per la compagnia per informazioni scrivetemi info chiocciolapodcastitaliano.com basta il link ce l'avete in chat il link è in chat comprate il corso quanto costa quindi non sei stata attenta l'ho detto non so come si compra non so se ci sono i codici il corso è qua tra l'altro c'è anche la possibilità di un'anteprima se volete farlo ma l'anteprima l'avete già avuta oggi non serve l'anteprima voi che siete stati qui l'anteprima l'avete già avuta insomma questo è tutto quello che avete visto rimborso se non vi piace per 30 giorni quindi insomma e magari ecco questa è una cosa che può ah non vedete lo schermo sono scemo scusate io parlavo nessuno vedeva lo schermo no se avete un livello intermedio avanzato può essere interessante può essere interessante secondo me perché conosco studenti che hanno un livello già intermedio e l'hanno fatto ma hanno imparato comunque molto lessico perché come vedete come vedete c'è un lessico anche a volte quotidiano ci sono parole di oggetti di luoghi parole legate parole come dire legate alla realtà fisica agli ambienti sì comunque secondo me quando si ha un livello diciamo intermedio comunque abbastanza buona in una lingua provare a leggere diciamo un romanzo no in quella lingua non sempre molto semplice anche se si ha un livello buono perché comunque tante parole così del come stavi dicendo tu magari del quotidiano anche se uno a un buon livello a volte non le conosce perché non le ha incontrate molto spesso e quindi ci si trova a leggere cose di cui magari si capisce la grammatica e tutto ma tante parole non si capiscono e quindi c'è la cosa che dicevo prima che ogni tre secondi ti devi fermare per ti devi fermare per cercare le parole sì l'idea è creare qualcosa di semplice ma interessante come un romanzo interessante come un film se vogliamo cioè qualcosa che poi l'idea l'idea di ciò che faccio io qualcosa che sia interessante non per stupidi io non tratto i miei studenti come stupidi io tratto i miei studenti come adulti che vogliono non sapranno mai come andare in banca non avranno mai fatto i dialoghi per andare in banca non sapranno mai per colpa tua come ritirare 50 euro i mitici dialoghi dal dottore in banca o cosa c'è in farmacia io non ho mai capito perché uno deve sapere i nomi delle malattie o del cioè impara la lingua la prima cosa una delle prime cose la gola mi fa male ho mal di gola cioè perché cosa serve se ti serve se stai male non muori se stai male lo cerchi sul dizionario quando ti serve cioè non è la prima cosa da imparare cioè le cose in realtà quello che si fa che funziona è ascoltare cose interessanti avere input e esporsi a contenuti questo è quello che secondo me va fatto studiare cioè esporsi leggere ascoltare cose che ci piacciono ed è quello che abbiamo cercato di fare creare qualcosa di appassionante realmente appassionante perché se appassiona uno innanzitutto continua numero due se proviamo emozioni se proviamo emozioni le cose rimangono in testa rimangono nella memoria la memorizzazione è molto legata alle emozioni quindi non è qualcosa di noioso di senza vita di arido è qualcosa pieno di contesto pieno di emozioni di cose che succedono e quindi è più facile poi memorizzare parole memorizzare costruzioni memorizzare frasi perché insomma c'è un contesto significativo per noi e questo è estremamente importante come mi insegna Luca che a quest'ora starà dormendo perché Luca va a dormire alle otto e mezza quindi non so cosa ci faceva qui quindi basta il link è in descrizione è ovunque andate sul mio sito andate dove volete noi vi salutiamo vi ringraziamo per la compagnia e alla prossima se comprate il corso fateci sapere cosa ne pensate vi aspettiamo dentro un saluto e ciao a presto ciao ciao